il paese già le mancate come c'è la piega in questo io vado tutto intorno a quel paese da sopra guarda, guarda che c'è canlone ci troviamo nella zona dell'accordo culturale che ci porta la potenza siciliano uno dei accordi più pericolosi che collegano la sala del noreggio con varie zone del sud Italia oggi è il 14 di settembre 2012 la regina oggi è curata dal mio amico Daniele L'Ultazzi abbiamo abbandonato il salvatore del pedalino per impegni di lavoro qui potete ammirare il panorama stupendo che si gode ma sopra questo viadotto che si chiama viadotto qui c'è un altro viadotto qui c'è un altro viadotto è un altro viadotto tutto in ferro è un tiso non so come fare post sono posti veramente meravigliosi qui peccato che oggi piove ma siamo a 6 km il punto 5 da Buccino oggi è una giornata piovosa che non ci fa vedere bene il panorama però già vi potete rendere conto di quel paese dopo la montagna giro tra l'altro lato magari la devo qua la devi la devi scatare che questa autostrada dal fatto sia che partisse da potenza è praticamente una continua interruzione comunque l'importante è che ci porta a destina d'azione, precisamente allo svincolo di Puccino dove poi prenderemo l'autostrada di Salernareggio in direzione sud verso Monte di San Giacomo che sta facendo un filmato che sicuramente racconterà grande successo per i nostri punti di viaggio in questo oggi ci troviamo in queste zone spurtute, qui siamo ai confini tra Basilicata e Campania facciate che c'è qualcuno che abita anche ne sopra, per guardarli sopra la linea di quella catapertia ce n'è uno che sopra, addirittura non è sopra, sarà qualcuno che viaggia con l'asino che credo ci sia uno straffico e un legamento accessibile per le auto questa è una panoramica Daniele, è veramente meravigliosa, sta incontrando tutto il viaggio oggi è già pagato quindi ci conviene utilizzarlo per fare questi appunti di viaggio stiamo aggrando la potenza, siamo all'interno di oggi alle 3 e meno 10 notate come si frena quanto sono queste deviazioni perché hanno paura e qui è molto facile da buona, è improvviso i frenati da questi autisti della domenica perché hanno subito paura quando vedono i cartelli di una deviazione, quante minuti abbiamo filmato Daniele? 4 continuiamo un altro po', facciamo questo sorpasso, lo firma mi raccomando ricordo che c'erano un bordo di un mezzo potentissimo metano tutti i soldati quando è la prima cosa che abbiamo! questa pandemia a propositoえっi un momento per aver avendo scala accanto fiorina da vettila ho abituato il fatto che sa a spazio e r��atio uscita No, no, no. Uscite poi, tenete la sinistra, uscite poi, tenete la sinistra.